Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio parlarvi del frigorifero che forma brina o ghiaccio sulla parete interna. Quindi vedremo insieme alcune delle cause che possono portare a questo. Prima di iniziare per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Oggi volevo parlarvi del frigorifero che fa brina o ghiaccio sulla parete interna. Purtroppo in alcuni casi il frigorifero nasce proprio così, nel senso che si forma una brina sulla parete e non c'è modo di farla andare via. Il problema ci sarebbe se questa brina si forma perché il frigorifero non riesce più a mantenere la temperatura interna. Quindi per diversi motivi il frigorifero potrebbe dissipare la temperatura interna e adesso andiamo a vederne alcuni. Considerate che se questo avviene il motore del frigorifero deve lavorare di più per compensare e quindi consumare più corrente. Senziché formarsi una patina di ghiaccio uniforme su tutta la parete si forma una palla di ghiaccio qui al centro in alto, questo significa che il motore non ce la fa più e succede in genere quando un frigorifero è molto vecchio. Allora in quel caso lì andrebbe sostituito il motore che per il mio parere non conviene. In quel caso lì secondo me vi conviene cambiare il frigorifero. Un altro motivo per cui il frigorifero non riesce a mantenere la temperatura è quando perde l'isolamento termico a causa delle crepe formatesi sulle pareti o sui binari dove appoggiamo i ripiani. Comunque nel caso ci fossero degli squarci delle crepe nel vostro frigorifero e volete sistemarle potete utilizzare un silicone di grado alimentare che per intenderci è quello che si utilizza anche per gli acquari. Comunque se vi serve sapere qual è vi lascio il link in descrizione. Comunque una delle cause più comuni per il quale il frigorifero dissipa la temperatura interna quindi forma la brina e quindi consuma di più è proprio quando la porta non chiude bene. Comunque adesso vi spiego come si fa a capire se la porta del frigo chiude bene e quindi se la guarnizione aderisce perfettamente. Posizionate una torcia all'interno del frigorifero su di un ripiano, spegnete la luce e cercate di fare il più buio possibile. Dopodiché chiudiamo la porta. A questo punto la luce interna del frigorifero si sarà spenta in automatico perché abbiamo chiuso la porta ma la luce della torcia interna rimarrà accesa. Quindi a questo punto non ci resta che controllare su tutto il profilo della guarnizione e vedere se si vedono degli spiragli di luce. Se la luce della torcia non è molto forte vi conviene metterla anche su un ripiano più basso e controllate anche la parte inferiore. In genere può capitare di intravedere degli spiragli di luce proprio negli angoli della guarnizione. Succede spesso che queste guarnizioni si schiacciano e rimangono deformate. Allora qui possiamo fare due cose. Se la guarnizione è cotta, cioè non c'è più elasticità, non è più morbida, ma è praticamente rigida, sembra plastica dura, allora in quel caso lì dobbiamo per forza sostituire la guarnizione e dopo vi spiego come si fa. Se invece è ancora morbida, però si è semplicemente deformata, ha preso una brutta piega diciamo, allora in quel caso lì possiamo fare qualcosa per tentare di sistemarla. Con un asciugacapelli possiamo scaldare e ridare la forma corretta alla guarnizione, quindi scaldiamo e tiriamo in modo da far diventare ancora gonfia, dare ancora questo effetto fisarmonica alla guarnizione in modo che quando chiudiamo la porta questa riadirisca perfettamente. Dovete sapere che le guarnizioni dei frigoriferi all'interno hanno una calamita che serve proprio per far sì che la guarnizione aderisca perfettamente. Può capitare negli anni che questa guarnizione perda il suo effetto e quindi anche in quel caso lì la guarnizione è da cambiare. Anche una guarnizione tagliata così può compromettere il corretto funzionamento del frigorifero. Visto che la guarnizione è ancora così bella morbida, possiamo ripararla utilizzando sempre del silicone di grado alimentare, vi basterà stenderne un velo e spalmarlo con il dito per chiudere il taglio. Dopodiché chiudete la porta piano piano senza spingere, senza schiacciare e la lasciate asciugare. Comunque se non vi è possibile recuperare questa guarnizione, allora in quel caso lì siete costretti a sostituirla. Allora ci sono tre possibilità, nel senso che esiste la guarnizione incollata e ho già fatto un video dove spiego come si sostituisce e vi lascio il link qui in alto. E poi ci sono quelle incastrate, come questa qui, vedete, e poi ce ne sono alcune un po' più rare dove all'interno, proprio nascoste qui sotto, ci sono delle viti, tutte sparse intorno a tutto il perimetro, che vanno svitate completamente. In questo caso qui abbiamo una guarnizione incastrata, quindi basta semplicemente tirare e toglierla in questo modo qui. Vedete, è molto semplice. Comunque se avete dei dubbi che l'effetto calamita possa non funzionare, potete anche staccare la guarnizione e fare una prova così. Vedete, rimane praticamente su da sola. Per concludere, se la guarnizione è molto schiacciata e non riuscite più a dargli la forma corretta, potete anche provare a girarla completamente. In questo modo la parte schiacciata della guarnizione andrà a finire nella parte in basso a sinistra, vicino alla cerniera, dove la porta è molto più vicino alla struttura del frigorifero. Rimontare la guarnizione è molto semplice, dovrete soltanto appoggiarla su e spingerla con forza per tutto il perimetro con le dita. Comunque sappiate che alcuni frigoriferi hanno in dotazione una ventola. Su alcuni modelli si attiva per mezzo del tasto meccanico, su altri modelli bisogna agire sul display. Questa ventola serve per asciugare l'acqua che si forma sulla parete, così da evitare la formazione della brina.